Hola a todos Vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo, qui come sempre c'è il vostro, ho acceso il microfono, si, DJ Vise Siamo tornati, signori, un altro prodotto della Vapefly Arriviamo con la sorella del Brunilde, Brunilda, cioè sempre Brunilde, ma versione MTL Leggermente più snello, super economico e se sapete rigenerare è il prodotto che dovete assolutamente comprare Ed eccoci di fronte alla scatola del Brunilde RTA, signori, siamo di fronte al Brunilde MTL RTA Dentro la scatola abbiamo il vano e un vetro di riserva da 5 ml All'interno troviamo anche questa scatola super importante, che è quella delle prese dell'aria Perché l'atomizzatore, come vedremo dopo, si va a... perché all'atomizzatore si vanno a mettere all'interno la prese dell'aria che volete voi Abbiamo le prese dell'aria da 0,9 mm, che è la prima 0,9 mm, 1.2, 1.4, poi abbiamo 1.8, 2.1 e 2.5 Io attualmente ho sull'1.2 e posso garantirvi che mi sto trovando molto bene con un tiro bello contrastato Poi all'interno troviamo la solita scatolina e bustina con coil e cotone Abbiamo poi i due fili che condurranno il liquido al cotone dal basso verso l'alto di riserva Abbiamo la classica chiavetta per svitare, 4 viti di riserva OR E abbiamo anche una chiave a brugola E all'interno troviamo anche un drip tip che io ho già cambiato Quello che ho messo su era quello che era nella scatolina, questo è l'originale con il quale viene fornito l'atomizzatore Ma ecco qui l'atomizzatore, ricorda molto il vecchio Brunilde Invece ragazzi, questo è da 24 mm e non ha più una capacità da 8 ml ma bensì da 5 Ecco all'interno come si presenta il nostro atomizzatore Vediamo due forellini dove c'è lo spazio per mettere il cotone Con al di sotto le due cordine o cavi che trasporterà il nostro liquido dal basso verso l'alto E qui dovremo alloggiare il cotone Un deck veramente molto molto semplice Con la possibilità di personalizzare la vostra Con la possibilità di utilizzare anche fili belli complessi E anche fare coil con molte spire Secondo me perché funziona veramente, è molto largo come deck Al di sotto poi vediamo quella che è la famosissima presa dell'aria intercambiabile Con un cacciavite noi potremo andare a svitarla e andare a avvitare un'altra nostra scelta Cosa che può avere vantaggi ma anche svantaggi Perché se voi non sapete bene come configurare quale foro volete voi Dovrete ogni volta togliere la rigenerazione per provare il foro dell'aria Vediamo anche i dettagli del Brunilde con il solito logo con l'elmetto con le ali Veramente un bel casco, sembra spartano quasi Finiture veramente veramente molto ben fatte Vetrino che viene coperto da queste appunto finiture che sono super estetiche Oserei dire per nulla anti estetiche Così facendo da coprire il vostro Così facendo da coprire il vetro E in caso di caduta sarà molto più difficile che si rompa Se in più vogliamo si può svitare il nostro atomizzatore tenendo il deck E la parte sotto e svitando Io attualmente non lo farò perché ho ancora una goccia del mio liquido Inoltre vediamo lateralmente come nel vecchio Brunilde I due fori che hanno caratterizzato questo, la presa dell'aria Se voi invece lo ruotate trovate il simbolino delle goccioline Per rifillare il liquido senza dover andare a smontare tre quarti di atomizzatore Cosa molto interessante Ma ragazzi che altro dire? Io direi di passare alla rigenerazione E poi svabatina e chiacchierata finale Ciao a tutti Grazie 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 a tutti A me questo atomizzatore fa impazzire Mi ero già inammolato del Brunilde da polmone Quello da 25 mm Il 24 da guancia è veramente fantastico Ho spinto tantissimo per averlo Dovevo essere uno dei primi a recensirlo Questo perché l'avevo già chiesto tempo fa Ma era in pre-order quindi non potevo Ordinarlo da Sourcemore Mi era inviato direttamente Vapefly Quando l'avevano già recensito tutti Anche se arrivo in ritardo ragazzi io vi posso dire che se non l'avete già comprato per 30 euro sotto i 30 euro Questo è un prodotto top da guancia Secondo me questo è stato uno dei migliori prodotti economici da guancia del 2019 L'unica cosa scomoda È che per cambiare il foro dell'aria dovete ovviamente andare a smontare la coil Perché questa è una cosa un po' scomodina Però ragazzi Il materiale col quale è creato è super resistente Il vetro è molto difficile da rompere grazie a queste finiture Che comunque non sono per niente antiestetiche Anzi le hanno sfruttate al meglio mettendo il logo col caschetto e le ali Quindi ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso All'interno io ho il mio old school L'ho provato anche con altri tabacchi A me piace veramente molto col mio Perché valorizza parecchio il tabacco E la nota di miele arriva alla fine Secondo me aromaticamente si prende un 8,5 Semplicità di rigenerazione gli do un 10 Perché è veramente facilissimo da rigenerare Non steccate mai grazie alle due corde Che portano sempre il liquido al di sotto del vostro cotone Sempre puntualmente Quindi è un prodotto veramente strepitoso Avete un'ottima capacità Un'ottima tenuta di liquido Non rimarrete mai senza E in più è molto semplice di rifillare Perché come nel vecchio Brunilde da polmone Dovete semplicemente girare l'asola E troverete un forellino più piccolo Avete anche comunque i segni I simboli delle goccioline di liquido Inserite all'interno la boccetta del liquido Riempite e siete già pronti per tornare a svapare Questa è un'idea veramente sensazionale Ragazzi a me è un prodotto che fa veramente impazzire Ringrazio Vapefly per avermelo inviato Io lo consiglio con tabacchi secchi O secchi aromatizzati O comunque tabacchi non troppo complessi Che altro dire È veramente un grandissimo prodotto Io concluderei qui Non mi resta che salutare Dal mio angolo dello svap è tutto Il vostro DJ Vise conclude Va a dirvi Gran prodotto Ciao ragazzi Ciao ragazzi